Ciao a tutti e benvenuti a Stories in Slow Italian. Ciao a tutti, oggi iniziamo una serie di episodi dove vorrei provare un metodo diverso. Nei prossimi cinque episodi, infatti, vi proporrò un argomento di dibattito su cui vi darò la mia opinione. Lo scopo di questo metodo è quello di sforzarvi a provare a controbattere o comunque a darmi la vostra opinione su questo argomento. Questo era un metodo che usavo spesso con i miei studenti perché li obbliga a parlare e cercare di vincere il dibattito o cambiare la mia opinione, qualsiasi fosse il loro livello. Ok, quindi ricordate che potete scrivere un commento e darmi la vostra opinione e non abbiate paura di eventuali errori grammaticali o se non ricordate tutte le parole. Questo non è un test, ma è un'ottima opportunità per mettervi alla prova. Iniziamo! Il dibattito di oggi sarà su dovremmo avere un salario minimo globale? Questo è un argomento molto sensibile per me perché, come potete forse già sapere, in Italia non abbiamo ancora un salario minimo. Questo vuol dire che un datore di lavoro in Italia può teoricamente pagarvi quello che vuole che, nella maggior parte dei casi, significa molto poco. La mia risposta istintiva è che questo è impossibile. Se avessimo un salario minimo globale, anche l'economia dovrebbe essere allo stesso livello in tutti i paesi, cosa che ovviamente non è e non vedo come possa essere possibile. Se decidessimo un salario minimo globale, secondo me questo svantaggerebbe molti paesi in cui l'economia va meglio che in altri, o comunque la vita è più costosa che in altri. L'Italia è obiettivamente un paese più economico della Norvegia, per esempio. Gli stessi prodotti in Norvegia sono più costosi che in Italia. Questo significa che se in Italia si percepisse lo stesso salario che in Norvegia, gli italiani sarebbero in grado di comprare molti più prodotti dei norvegesi. E questo renderebbe gli italiani più ricchi dei norvegesi, in un mondo in cui la Norvegia è in realtà il paese più ricco. Anche se non penso che dovremmo avere un salario minimo globale, penso che dovrebbe essere istituito un salario minimo in tutti i paesi del mondo, che sia giusto verso i lavoratori e che permetta a tutti i cittadini di poter sopravvivere. Anzi no, non sopravvivere, ma vivere comodamente, in base al costo della vita del luogo in cui si trovano. Quindi non solo del paese, ma proprio del luogo. Perché, di nuovo, così come non si può avere lo stesso salario in Italia e in Norvegia, così non si può avere lo stesso salario in una grande città come Milano e in una piccola città in campagna, dove tutto costa molto meno. Questa è la mia opinione. E voi cosa ne pensate di questo argomento? Siete d'accordo con me o vorreste farmi cambiare idea su qualcosa che ho detto? Scrivetemi la vostra opinione nei commenti e non preoccupatevi di fare errori. Vi prometto che nessuno vi giudicherà e non dovete avere paura di mettere alla prova il vostro italiano. Questo è il modo migliore di imparare velocemente. Alla prossima! So, hello everyone! Today's episode starts with a new method or an experiment I wanted to do. So, in the next five episodes, I will give you a topic and we basically need to discuss about this topic. So, in the episode, I will tell you about my opinion on the topic and in the comments, you can write your opinion. So, it's really good for you because you can practice your Italian, you can write and it's really interesting and really good to practice by giving me your opinion about something. Especially if you're passionate about a topic. I don't know if I will pick a topic that you're passionate about but it would be really good. So, today's topic, as we saw, is minimum wage and now we're going to look at the text once again and go through it with the English translation. So, if there was any word or any expression that was a little bit difficult for you to understand, we can see together what the meaning is. And then, if you would like, I would really like it if you would write your opinion in the comments. Great, let's get started. So, ciao a tutti! Oggi iniziamo una serie di episodi. So, today we start a series of episodes dove vorrei provare un metodo diverso. So, where I would like to try a different method. Nei prossimi cinque episodi, infatti, vi proporrò un argomento di dibattito su cui vi darò la mia opinione. So, in the next five episodes, I will propose, I will bring up a topic. Un argomento di dibattito is a topic of debate su cui vi darò la mia opinione. So, on which I will give you my opinion. Lo scopo di questo metodo, so the goal, the aim of this method, è quello di sforzarvi a provare a controbattere. So, you must force yourself to try and argue, you know, controbattere. So, it's like to beat against, so to argue or to give me your opinion about that. O comunque a darmi la vostra opinione su questo argomento. Questo era un metodo che usavo spesso con i miei studenti. So, when I was still teaching, I used this method quite a bit with my students. perché li obbliga a parlare, so they, it forces them, obbligare to force, so it forces them to talk, e cercare di vincere il dibattito. And try and win the debate. O cambiare la mia opinione. Or to change my opinion. Qualsiasi fosse il loro livello. So, no matter the level of Italian. Ok, quindi ricordate che potete scrivere un commento. So, remember you can write a comment. E darmi la vostra opinione. And just give me your opinion. E non abbiate paura. So, don't be scared. Non abbiate paura. Don't be afraid. Di eventuali errori grammaticali. To make grammar error, grammar mistakes. Don't be afraid of that. And don't be afraid if you don't remember all the words. Se no, ricordate tutte le parole. Questo non è un test. Ma è un'ottima opportunità per mettervi alla prova. So, it is not a test, this. It's not an exam. So, don't be afraid. It is just a very good opportunity to test yourself. Mettersi alla prova means to test yourself. Iniziamo. Let's get started. Il dibattito di oggi sarà su Dovremmo avere un salario minimo globale. So, today's debate will be about the question Should we have a global minimum wage? Un salario minimo globale. Global minimum wage. Questo è un argomento molto sensibile per me. So, this is a very sensitive topic for me. Because, as you may already know, perché come potete forse già sapere, come as potete, as you can, maybe already know, forse già sapere, in Italia non abbiamo ancora un salario minimo. Questo vuol dire che un datore di lavoro in Italia può teoricamente pagarvi quello che vuole. So, this means that An employer, un datore di lavoro, an employer, in Italy can theoretically pay you whatever they want. Può teoricamente pagarvi quello che vuole. Che, nella maggior parte dei casi, significa molto poco. So, which in most cases means very little. Unfortunately, that's reality. That's why I say Italy is the perfect country. It's beautiful. The visit, oh my God, it's amazing. But I don't know if you would want to live and work there because it's not as good. Not yet, at least. So, la mia risposta istintiva, my instinctive response, instinctive response, la mia risposta istintiva è che questo è impossibile. So, for me it is impossible a global minimum wage. Se avessimo un salario minimo globale, anche l'economia dovrebbe essere allo stesso livello in tutti i paesi. So, in my opinion, if we had, se avessimo, if we had un salario minimo globale, anche l'economia dovrebbe essere allo stesso livello in tutti i paesi. So, the economy should also be on the same level in all the countries. No, if you are earning the same thing, the economy must also be at the same level. Cosa che ovviamente non è thing that, which is obviously not the truth. That's not how it is. E non vedo come possa essere possibile. And I can't see how that can be possible. Se decidessimo un salario minimo globale, secondo me, questo svantaggerebbe molti paesi in cui l'economia va meglio che in altri o comunque la vita è più costosa che in altri. so if we decided for a global minimum wage, in my opinion, secondo me, according to me, questo svantaggerebbe molti paesi. so this would disadvantage svantaggerebbe. Un vantaggio is an advantage, uno svantaggio is a disadvantage. and this advantage I'm talking anymore, sorry. So this would disadvantage many countries, molti paesi, in cui l'economia va meglio che in altri. So many countries where the economy is better than in others o comunque la vita è più costosa che in altri or in any case life is more expensive than in others. L'Italia è obiettivamente un paese più economico della Norvegia, per esempio. So let's just take an example, let's take Norway and Italy. Italy is more economic, it's cheaper than Norway. Gli stessi prodotti in Norvegia sono più costosi che in Italia. If you take the same products, in Norway they will be more expensive than in Italy. Questo significa che se in Italia si percepisse lo stesso salario che in Norvegia, gli italiani sarebbero un grado di comprare molti più prodotti dei norvegesi. So this means, questo significa che se in Italia si percepisse gli italiani sarebbero in grado di comprare molti più prodotti dei norvegesi. So italiani sarebbero più prodotti che norvegesi. Perché si pagheranno la stessa monta di money ma le cose in Italia sarebbero più cheaper. E questo renderebbe gli italiani più ricchi dei norvegesi. in un mondo in un mondo in cui la Norvegia è in realtà il paese più ricco. In a world where Norway is actually the richest country. Anche se non penso che dovremmo avere un salario minimo globale penso che dovrebbe essere istituito un salario minimo in tutti i paesi del mondo. So while I don't think we should have a global minimum wage I do think there should be a minimum wage in every country in the world. che sia giusto verso i lavoratori that could be fair towards the workers e che permetta a tutti i cittadini di poter sopravvivere so that would allow permettere to allow and that would allow to all the citizens to survive sopravvivere to survive anzi no non sopravvivere actually no not just survive ma vivere comodamente but to live comfortably in base al costo della vita del luogo in cui si trovano so based on the cost of life of the place where they are so not just survive but to be able to live in the place where they are quindi non solo del paese ma proprio del luogo not just the country where they are but the place where they are il luogo perché di nuovo così come non si può avere lo stesso salario in Italia e Norvegia so again di nuovo just like you can't have the same salary in Italy and in Norway the same thing you can't have the same salary in a big city così non si può avere lo stesso salario in una grande città come Milano like Milano for example e in una piccola città in campagna and in a small town in the countryside dove tutto costa molto meno where everything is less expensive tutto costa everything costs a lot less molto meno questa è la mia opinione this is my opinion e voi cosa ne pensate di questo argomento so what do you think about this topic siete d'accordo con me do you agree with me essere d'accordo to agree siete d'accordo con me do you agree with me o vorreste farmi cambiare idea su qualcosa che ho detto or do you want to change my mind farmi cambiare idea change my idea su qualcosa che ho detto about something I have said scrivetemi la vostra opinione nei commenti e non preoccupatevi di fare errori so tell me about your opinion in the comments but don't worry about making mistakes non preoccupatevi don't worry di fare errori to make mistakes vi prometto I promise you vi prometto che nessuno vi giudicherà that no one will judge you nessuno vi giudicherà e non dovete avere paura di mettere alla prova il vostro italiano you shouldn't be afraid you shouldn't be worried about testing your italian or trying your italian questo è il modo migliore di imparare velocemente so this is the best way to learn quickly you have to do it just like you have to talk you have to write and if you make mistakes who cares italians will just be happy that you can say some things so even if you make mistakes they will be super excited about it so really don't worry about it and try and practice your italian as much as possible great so let me know about your opinion e alla prossima and can see you as 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 Grazie a tutti.